Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti sono tornato da quest'altra inquadratura finalmente ho messo a posto tutto quello che dovevo, aggiornati driver, aggiornati software e siamo di nuovo sul pezzo oggi colore verde, questo non sembra tanto un verde perché così alla luce sembra più un giallognolo marcio però vi assicuro che è verde, è talmente verde che mi sta accecando, verde perché io voglio infondere un po' di speranza visto che il mercato sembra darcela, con le ultime candele tra l'altro ieri, ieri e oggi sembra che di fatto quel ritracciamento che aveva un brutto aspetto che era iniziato la settimana scorsa stia un po' rallentando per non dire terminando, ecco io non voglio essere troppo positivo perché è ancora presto per esserlo però quantomeno stiamo notando che la domanda non si fa attendere quindi che dire, gli esiti possibili adesso sono di vario tipo quello più probabile, come vi ho anticipato su Telegram nell'analisi di oggi, è un periodo di lateralità non vi voglio però spoilerare l'analisi del grafico perché mi spiacerebbe un po' allora io vedo che non si vede la chat, non so per quale motivo a schermo cioè io la vedo però secondo me voi non la state vedendo e chissà come mai, ogni tanto succedono sempre queste fantastiche cose ma fa niente, io tanto la vedo, l'importante è quello no, ora è comparsa, niente, dovevo solo triggerare anche lì il widget giusto niente, non fateci caso, sono io che litigo ogni tanto con OBS comunque anche oggi come al solito vi ho raccolto un paio di notizie interessanti vi parlo un attimino di optimism su Ethereum perché dopo il post che ho fatto oggi su Telegram avete fatto un sacco di domande e quindi credo che valga un po' la pena insomma magari approfondirlo un attimino capire un po' come funziona è un metodo che permette in sostanza la scalabilità di Ethereum che dovrebbe andare in live in mainnet già in questo mese teoricamente e al quale aderiranno, è questo che lo rende interessante, dei progetti molto importanti quali Uniswap, quali addirittura Compound è in lista Chainlink si integrerà, Synthetix è già in testnet e sta già andando alla grande quindi vale la pena conoscerlo perché di fatto non bisogna pensare che finché non arriva Ethereum 2.0 le fee saranno paralizzanti per Ethereum perché ovviamente ci sono un po' di progetti in atto finalizzati a non dover aspettare due anni per rendere Ethereum utilizzabile un po' da tutti altrimenti la gente scappa infatti la prima notizia di oggi è proprio all'insegna della fuga c'è un po' la fuga della DeFi da Ethereum fuga no perché ovviamente non è che vanno via da Ethereum e vanno su altre Chain però com'è giusto che sia io lo trovo assolutamente corretto dal punto di vista dei progetti in sé loro vanno ovunque c'è liquidità ultimamente la Binance Smart Chain si sta facendo valere parecchio per liquidità se andiamo su DeFi Station che è il DeFi Pulse della Binance Smart Chain vediamo che di fatto c'è un trend molto molto rapido, ripido o meglio ascendente per la liquidità bloccata sulla BSC vedete siamo già a 10 miliardi e il tutto si è mosso nel giro di un mese perché se guardate all'inizio di febbraio praticamente c'era mezzo miliardo e al momento attuale siamo già a 10 quindi veramente veloce come trend ascendente al contrario su Ethereum siamo abbastanza in stasi in questo periodo dopo un massimo di 45 miliardi c'è stato un po' di storno accompagnato ovviamente al decremento del prezzo di Ethereum, di Bitcoin eccetera che porta in maniera organica a un decremento anche della liquidità sulla DeFi però come vedete il trend si è un attimino messo in pausa proprio per via dei problemi di Ethereum che tutti quanti conosciamo Alfa o Mora, vi stavo facendo vedere, si integrerà con la Binance Smart Chain in un programma multi-chain, nel senso non è che si focalizza soltanto sulla BSC l'obiettivo di Alfa o Mora, come vi dicevo, è seguire un po' la liquidità quindi ovunque vede una blockchain che contiene liquidità che contiene possibili clienti, chiamiamoli, del progetto stesso allora giustamente ci va la prima è la Binance Smart Chain e in seguito vuole espandersi su altri livelli 1 e livelli 2 pertanto sicuramente esplorerà anche i layer 2 di Ethereum magari proprio Optimism, chi lo sa, però in ogni caso questo è bene per Alfa in sé il fatto che comunque si sia reso indipendente, cioè non esclusivamente dipendente o meglio dal layer 1 di Ethereum perché non può che giovarci in liquidità e finalmente magari anche qualcuno di voi che era interessato a provare Alfa o Mora lo potrà fare su BSC senza dover pagare 600 e passa dollari di fee perché l'ultima volta erano davvero quelli vi faccio una piccola carrellata su Optimism poi passo subito alle vostre domande perché già è lungo, non vi voglio annoiare più di tanto allora vi lascio il link a questo piccolo thread che in realtà altro non è che una serie di tweet raccolti è una serie di tweet compilati insieme da un'app che lo fa in automatico è un tweet molto ben scritto che spiega un po' bene che cos'è Optimism e cosa sarà in sostanza è una soluzione di livello 2, un layer 2 finalizzato a scalare Ethereum quindi ad andare a decrementare le fee e a incrementare la velocità delle transazioni come lo fa? allora il layer 2 è un concetto che va visto come un'altra blockchain che si interfaccia molto spesso con il layer 1 però la sgrava delle operazioni più pesanti, più onerose in questo caso specifico Optimism è appunto un layer 2 che quindi condivide la sicurezza con il layer 1 che è Ethereum la sicurezza è uguale, identica al contrario ad esempio di altre applicazioni che sono cosiddette sidechain only come ad esempio Matic, Polygon oppure XDAI che sono paralleli a Ethereum ma hanno il loro algoritmo di consenso la loro sicurezza propria invece Optimism si appoggia proprio a Ethereum per quello quello che fa, detto in maniera estremamente semplice come mostrato in questa immagine che purtroppo è sgranatissima dentro a Ethereum, il livello 1, ci sono questi roll up contracts che sono dei pacchetti fatti apposta dalle applicazioni che si vorranno integrare con Optimism e in sostanza arriva la transazione in ingresso come se niente fosse, come nella normalità il roll up cosa fa? la va un po' a scomporre nel senso lo smart contract viene eseguito su layer 2, su Optimism quindi tutte le operazioni eseguite lì sono a zero fee, istantanee, rapide perché non sono da confermare su Ethereum e poi l'output viene rimandato subito sul layer 1 ok? quindi sul layer 1 ci sono semplicemente queste transazioni e non tutte le funzioni dello smart contract che vengono invece eseguite sul layer 2 la cosa interessante è che qualora diverse piattaforme si spostassero sul layer 2 non ci sarebbe neanche bisogno di fare il ripassaggio al layer 1 perché se le piattaforme di DeFi per dire si integrano tutte tra loro e c'è da fare un'operazione che va a chiamare diversi smart contract avverrebbe tutto sul layer 2 il risultato è la possibilità di utilizzare delle DAP a fee pressoché nulle e senza doversi spostare da Ethereum perché come vedete è tutto integrato in maniera estremamente semplice questa cosa dovrebbe cioè è già praticamente in testnet quasi attiva è un'alfa privata della mainnet mi pare e a quanto pare entro marzo dovrebbe già uscire una versione pubblica una prima versione pubblica poi qua in questo thread potete leggere tutti i dettagli tecnici nel senso magari vi viene da chiedervi ma come si fa a essere sicuri che sul layer 2 tutto funziona bene c'è un meccanismo anche lì un simile proof of stake chiamiamolo però non ve lo sto a spiegare perché non ne sarei neanche troppo in grado a dire la verità e poi è veramente tanto tecnico e non vi voglio annoiare troppo vi dico qualche numero e qualche risultato perché come vi dicevo come è scritto qua nella parte vendi lo stanno testando su Synthetix che è già attivo su Optimism in privato in una private mainnet e su una sorta di proof of concept di Uniswap che è un esperimento chiamiamolo che aveva già fatto a novembre 2019 si chiama Unipig e il gas cost si riduce di 100 volte 143 volte su Synthetix e le transazioni vengono confermate in 200 millisecondi o meno il che è un risultato decisamente incoraggiante perché una volta che sarà online e tutte le varie Dapp o applicazioni DeFi si integreranno con esso io credo che sarà un ottimo catalizzatore per Ethereum per ritornare un po' meno insultato di quanto è adesso tra l'altro sempre riguardo Ethereum c'è in agenda il 5 di marzo prossimo dopo domani si chiama il Core Devs Meetings Core Devs Meetings in sostanza è un raduno una call che è streamata poi è in diretta anche su YouTube la potete seguire dove gli sviluppatori principali di Ethereum si trovano discutono i topic del momento in particolare in agenda ci sono alcuni IIP che vorrebbero essere implementati nell'hard fork London che è l'aggiornamento che ci sarà a luglio no sì a luglio mi pare quest'estate tra cui il famigerato Ip1559 quindi se magari il 5 marzo dicono bene implementiamolo è fatto ci potrebbe essere un po' di turbolenza sul mercato di Ethereum basta questo è tutto quello che vi volevo dire per oggi per quanto riguarda le notizie adesso io passo la parola a voi via con le domande vi voglio belli carichi e poi andiamo a dare un occhio come sempre ai grafici Luke che ne pensi di ACS a Cryptos non lo conosco purtroppo non te lo so dire ciao Luca buonasera che crypto usare per spostare i fondi tra un exchange e l'altro pagando poche fee oddio dipende perché deve essere una crypto che ha su entrambi gli exchange ovviamente perché altrimenti non c'è ragione di spostarla se tu la converti in una crypto che dall'altra parte non c'è poi non ha nessun senso la conversione io ti direi guarda tanto tutti gli exchange hanno la pagina fees dove ti mostra tutte le fee di prelievo di ogni crypto tu assicurati però che la crypto che stai in cui la stai convertendo sia presente anche sull'altro exchange altrimenti non ha nessun senso poi ci sono alcuni exchange ad esempio ieri ho fatto un prelievo da FTX e non ti fa pagare le fee bellissimo fossero tutti così sarebbe fantastico secondo me al posto di Luca esce Elon Musk se no l'ho nascosto dentro il cassetto ciao Luca puoi dare uno sguardo ad Avalanche grazie mille andiamoci a dare uno sguardo allora tac allora 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 è lui vero Avax ha avuto un pump molto importante oserei dire però adesso ha formato la famigerata punta sapete quella che a me non piace tac tac pertanto più che punta sembra una pinna di squalo questa pertanto io finché c'è una situazione del genere il grafico mi mi spinge via ecco proprio non mi avvicina nemmeno un po' al fine di renderlo di nuovo appetibile secondo me dovrebbe passare un po' di tempo scaricare la fase decrescente e poi iniziare a vedersi della domanda quindi esempio se lateralizziamo ancora un po' facciamo un bel range e poi lo buchiamo a rialzo bene allora lì si può iniziare di nuovo a ragionare la costruzione di una posizione long ma altrimenti per me è no purtroppo procediamo dunque puoi analizzare il grafico di bitcoin grazie no non lo guardiamo no scherzo ovviamente lo guardiamo lo guardiamo verso i due terzi del live l'ultimo terzo del live l'ultimo quarto d'ora 20 minuti è dedicato proprio al grafico di bitcoin e delle altre maggiori coin le più interessanti ecco allora 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 che ne pensi di just liquidity super popolare negli USA appoggiata dalla BSC guarda in realtà ho visto che sta spopolando abbastanza aspetta just liquidity è quella su tron volevo addirittura dedicarci un video perché effettivamente si parla solo di BSC come alternativa a ethereum ma non si parla mai di tutte le altre adesso non so nemmeno come si usa dire la verità exchange forse swap no perché di fatto è un modello uniswap quindi liquidity pool eccetera eccetera ma su tron quindi ha tutte le logiche poi di tron di fatto anche l'interfaccia è pressoché identica a quella di uniswap volevo solo vedere un po' di informazioni da condividere con voi quindi ad esempio quanta liquidità c'è mi pareva che fosse sui 600 milioni se non ricordo male no 74 milioni così poco ma allora mi sa che non era questo non lo so perché forse ce ne sono anche altre su tron io mi ricordo che l'altro giorno mi è capitata davanti una una piattaforma di un liquidity pool una piattaforma di liquidity pool su tron e ho detto caspita ma è andata così avanti tron e ho detto potrebbe essere interessante esplorarlo perché anche quello è a zero fee di fatto come diversificazione allora quanto potranno durare queste APY sulla BSC guarda finché c'è FOMO finché c'è nuovo capitale che entra e finché soprattutto i token legati al farming crescono in quel caso lì sicuramente gli APY rimangono gli APY si inizieranno a contrarre quando inizia appunto la fase un po' decrescente perché è un po' organico nel senso finché tutto cresce tutto sale gli APY sono alti tutto si alimenta e rimangono comunque sostenibili quando esempio per PancakeSwap se il token cake dovesse iniziare ad andare in downtrend e perdere pesantemente prezzo gli APY si sgonfierebbero subito non so se ad esempio ci avete fatto caso il giorno del dump di bitcoin che non ricordo più che giorno era ma non tanto tempo fa 22-23 febbraio gli APY si erano sgonfiati moltissimo su tutte le piattaforme non so se ci avete fatto caso hanno subito un 10-15% di contrazione media quindi notevole bisogna stare attenti perché anche quelli ovviamente sono molto figli della FOMO che al momento c'è sui mercati ciao Luca su Binance e risparmi flessibili c'è una sezione che si chiama attività come si fa a partecipare? è scritto sempre terminato sì perché quelle lì che vengono chiamate attività in realtà sono cose on demand ti faccio vedere cosa intendo cioè ogni tanto ne vengono erogate delle nuove Binance Earn ne vengono erogate delle nuove e bisogna seguire ok? hanno delle date specifiche adesso te le faccio vedere allora esempio questo qua beh questi sono già tutti terminati RIF 21D 20% significa che era un deposito vincolato per 21 giorni che rendeva un 20% annualizzato sulla coin RIF e però aveva un limite vedete raccappato a 5 milioni di RIF e quindi in sostanza è un primo arriva primo servito cioè quando esce la nuova attività si va fino a saturazione poi basta è chiusa e terminati i giorni di durata poi del vincolo si va alle prossime quindi ne escono in continuazione vale la pena a volte starci dietro spesso ci sono delle altcoin per non dire shitcoin quindi rare volte capita di averne una veramente veramente interessante però non lo so potrebbe valer la pena seguire che ad esempio per chi detiene Errond potrebbe essere interessante quando esce e cose di questo tipo però vanno ahimè seguite è un po' richiede un po' di attività poi dove cercare lavoro stage formativi nel settore crypto senza troppe competenze tecniche guarda ti direi dunque innanzitutto di contattare direttamente le aziende che secondo me lo apprezzano cioè dipende un po' in che settore poi vuoi andare a lavorare però gli exchange di solito hanno delle liste lunghissime di ricerca di candidati e forse sono un po' meno raggiungibili magari tu trovi la start up italiana che ti sembra interessante l'azienda magari nata da poco non quelle fuffa ovviamente li puoi scrivere direttamente magari sono interessate a collaborazioni poi non so se ci sono dei siti appositi dove ci sono raggruppate le ricerche di lavoro prettamente nel settore crypto sarebbe carino anche quello se ci fosse ciao Luca avendo un capitale limitato vorrei sfruttare i ritracciamenti di bitcoin in modo intelligente al fine di accumularne il più possibile è sensato fare dei piccoli take profit ogni step da reinvestire poi in fase di ritracciamento o ci sono strategie migliori gli short hanno senso con piccoli capitali grazie mille allora ti dico la verità stai molto attento nel senso non ottenere l'effetto opposto perché è vero tu hai dici ho poco capitale magari posso rischiare un po' di più però attenzione a non bruciarlo quel capitale perché anche se ne hai poco tu tienitelo stretto cioè non buttarti nel trading se non lo sai fare questa è la cosa importante se non lo sai fare e ti interessa comincia a studiartelo un po' esponendoti pochissimo alla volta cioè non buttarti subito con tutto il tuo capitale o con una parte importante comincia con una parte che tu dai per persa perché il trading non è semplicemente dire bene adesso è salito vendo quando scenderà ricompro vedrai cioè te ne accorgerai quando e se inizierai a farlo concretamente che è molto molto più complicato di così e se lo approcci nella maniera sbagliata non c'è storia i soldi lì si perde quindi io raccomando assolutamente di approcciare il mondo del trading soltanto se A lo si sa fare B si ha la voglia e la pazienza di iniziare a seguire un percorso che sarà difficile sarà complicato e prevederà inizialmente delle perdite che fanno parte assolutamente del gioco ecco poi andiamo avanti andiamo avanti ah e per riguardo gli short si hanno assolutamente senso a patto che li si sappia usare anche quelli secondo te è un periodo in cui si possono aprire posizioni long su altcoin allora le altcoin possiamo andare a dare un'occhiata alla dominance guarda in verità la dominance è sempre abbastanza piatta quindi in questo periodo sì come no nel senso non è che ci sia quella spinta che fa continuare a galloppare le alt come c'è stato in questo periodo al momento è un periodo di stasi quindi sì se trovi una ne trovi una o due che hanno dei setup interessanti però senza esagerare nel senso sicuramente non è un periodo in cui vale la pena essere sovraesposti alle alt perché di fatto se poi questa lateralità si risolve con una rottura a rialzo le alt le vedremmo tracollare in maniera clamorosa quindi sarà questo che ci dirà se ci sarà un'altra alt season se continuerà l'alt season oppure se dobbiamo dire ciao ciao alle altcoin cercare di prevederlo è un rischio veramente alto quindi mi raccomando in questi periodi ci sta perché alcune altcoin di fatto hanno dei setup presentano dei setup interessanti potrebbe valer la pena sfruttarli però assolutamente senza dare per scontato che le altcoin continueranno ad andare come sono andate a gennaio perché è stata una cosa abbastanza presa dalla FOMO tra università e il resto inizierò pure a studiare i tuoi corsi bravo studiare è la chiave vincente poi sono tutti gratuiti quindi più di così che vuoi ciao Luca pensi che l'esposizione al dollaro sia rischiosa in questo periodo tutte le piattaforme di rendimento passivo sono per lo più in stablecoin legate al dollaro ohimè vero verissimo purtroppo che dire io credo che cioè io personalmente dove posso diversificare sull'euro lo faccio ad esempio su Nexo e quindi direi che un po' vale la pena farlo nel senso se si ha la possibilità di diversificare non ci dovrebbero essere limiti anche perché non ci sono fi su queste piattaforme quindi secondo me una cosa che vale la pena fare è diversificare proprio nelle piattaforme stesse mettendosi anche un po' su euro e un po' su dollaro poi dire che l'andamento del dollaro andrà a prosciugare completamente il guadagno non credo di certo non è un periodo d'oro per il dollaro quindi quello sicuramente si conviene sicuramente diversificare un po' sull'euro ciao Luca grandissimo cosa ne dici di Teta vuoi dare un occhio al grafico tra l'altro ho visto la notizia se non è una fake news ma non credo che la Sony è entrata nei suoi validators nei block producer non so neanche come si chiamano però è entrata nel giro di Teta ecco che in effetti si pone poi nel settore entertainment il grafico è molto molto bello guardiamo il settimanale allora il settimanale è altrettanto bello però forse il giornaliero rende di più perché sul settimanale ci sono queste shadows che in realtà sul giornaliero erano dei test ulteriori guardiamo allora innanzitutto ecco tracciamo il nostro top locale che parte da qua a 7200 satoshi torniamo sul giornaliero e guardate infatti come rimane importante questo livello abbiamo il livello che nasce da qua test numero 1 test numero 2 test numero 3 e attenzione questo sarà il breakout retest chi lo può mai sapere allora è un po' presto per dirlo perché come vedete qua abbiamo avuto un falso break da manuale abbiamo avuto il break il test questa è la domanda quindi già qua partiamo un po' meglio però manca ancora una cosa vediamo chi di voi me lo sa dire cioè in realtà teoricamente no però è stata un po' deboluccia intendo la presa della liquidità vedete abbiamo preso la liquidità sopra i massimi ma proprio uno sfioro e per avere un breakout confermato su un grafico una cosa che a me piace vedere è un attacco alla liquidità che poi rimane direzionale poi magari può anche stornare però nel mentre comunque far vedere che non c'è stata la presa della liquidità da chi voleva vendere per poi dampare appunto sulla liquidità generata ma che comunque c'è continuità direzionale da quella parte dopo anche la presa della liquidità questo è un po' borderline come vedete perché è giusto grattata è uno sweep molto risicato dopodiché c'è stato il retest attualmente la domanda vince sull'offerta se andiamo a vederle quattro ore vediamo un rimbalzino di fatto la conferma finale ecco io mi sento di dire che potrebbe essere un higher high una cosa di questo tipo magari sulle quattro ore per non dover aspettare il giornaliero però di fatto secondo me aspettare un'altra conferma schifo non fa perché se è vero che anche sulle quattro ore è diverso da questo falso break però ecco non è ancora convinto al cento per cento l'approccio aggressivo ci può già stare volendo per chi vuole cercare di anticipare il più possibile e di avere il rischio rendimento ideale si può fare aprire la posizione mettere lo stop loss che ne so da queste parti in caso di riassorbimento e basta se uno vuole una posizione iper aggressiva potrebbe addirittura metterlo qua lo stop loss un po' rischioso molto stretto però dipende tutto dalla posizione che si vuole andare ad approcciare per un approccio invece più di tra virgolette lungo termine passatemi il termine perché lungo poi no ma nel senso uno swing trade potrebbe valer la pena attendere qualche confermina in più torniamo da voi allora ciao luca guarderesti il grafico di pnt da buon holder prima di edo ora di pnt per ottenere i benefici attraverso lo staking guardo poco il prezzo ma se sale a meglio il progetto a me piace e credo che il tema cross chain sia importantissimo assolutamente inoltre adesso stanno lavorando per creare un bridge tra bsc e deterrum interessante come lavoro e andiamo a vedere pnt come si sta comportando allora e guarda qua c'è questo bruttissimo downtrend dopo la defi summer che non è mai stato del tutto recuperato però c'è da dire che adesso un po' non lo so in maniera che sembra poco organica a dire il vero c'è questo higher highs higher lows poco organica perché di fatto se ci fate caso i movimenti sono tutti estremamente concentrati in poche candele molto isteriche che sembra che addirittura siano proprio degli acquisti iper localizzati cioè guardate questo che ha bucato tutto l'order book fino a non so dove non so se è un'anomalia o è vera però dico la verità questo grafico non è che mi convinca più di tanto proprio per la grossa illiquidità che c'è sul mercato sembra un andamento molto molto artificiale e quindi io non prenderei posizione ecco se devo essere del tutto sincero cambio ovviamente il discorso nel caso in cui uno voglia fare staking investire sapete bene che in questo caso il grafico è meno importante chiaro ciao Luca sempre sul pezzo volevo dirti chiederti ho acquistato l'end e ricevuto nft su the sandbox potresti fare un video su come si usa pensi su come poterli vendere o acquistare guarda in realtà volevo fare un bel aggiornamento sul mondo nft perché ne vale la pena se no poi mi dite che rimango indietro avete assolutamente ragione maglia bullish assolutamente ho comprato asgard finance tor una moneta da 100 per beh il nome sicuramente è cazzutissimo asgard finance tor non so cosa sia ma c'entra con run per caso perché in tal caso run a me piace come progetto un altro progetto cross chain interessante assolutamente ma buonasera caro Luke ma buonasera a te ormai sei sempre qui io ti vedo ti tengo d'occhio secondo te con il respingimento dal cluster a 52k si configura lower high guarda c'è da vedere se di fatto respingeremo perché quello che è accaduto oggi non è ancora una respinta secondo me perché di fatto come vedi l'abbiamo attaccato vero però siamo sempre lì c'è stata la prima reazione dell'offerta che ha spinto un po' in basso però vedi bene che siamo sempre qua e quindi domani potrebbe tranquillamente andare a fare un follow up rialzista quindi io ti dico non l'abbiamo ancora verificata la respinta è ancora in pausa ancora in forse deve ancora approcciarlo definitivamente ne parliamo dopo però se no io vi spoiler tutto il grafico di bitcoin perché è un punto di fatto cruciale assolutamente l'approccio con i 52k assolutamente cruciale ciao Luke ci puoi spiegare meglio dal tuo punto di vista come lavorano le cefai con gli istituzionali e come facciamo ad essere sicuri che i fondi depositati siano troppo esposti al rischio allora riguardo la sicurezza c'è una componente molto grande di fiducia purtroppo con le cefai è così tu devi conoscere il più possibile l'azienda a cui stai affidando la tua liquidità sapere come lavora con chi lavora ove possibile magari se hanno esposto qualche bilancio qualche comunicato tanto meglio e quindi tu tendenzialmente andrai a fidarti di più di chi gestisce i fondi con prestandoli a persone affidabili prestandoli a persone solventi e a aziende conosciute ok più un'azienda è trasparente in questi termini e meglio è le assicurazioni sui depositi di solito sono più un marketing che altro perché come giustamente dici i fondi sono prestati a terzi quindi non è che sono depositati lì pertanto l'assicurazione che vale solo per i depositi smette di valere sui fondi prestati quindi se una cefai presta a qualcuno che poi non gli riesce più a ridare c'è l'insolvenza e non c'è l'assicurazione che tenga quindi è importante che vada a fare dei prestiti che non siano rischiosi questo è importantissimo e quindi ci si può fidare di più in sostanza di quelle più istituzionalizzate nel senso io ve le ho presentate quelle di cui io mi fido di più abbiamo BlockFi abbiamo Nexo abbiamo Celsius abbiamo Crypto.com che sono quelle più conosciute più grandi e in quanto hanno comunque un business già avviato già funzionante hanno meno ragioni di fare prestiti a rischio BlockFi in particolare ha fatto tutta una disclosure sulle sue revenue sulle sue entrate su come funziona e quindi quello mi dà ancora più sicurezza si sa che dietro ci sono investitori come Genesis come Coinbase come Fidelity e questo ancora mi dà più sicurezza capite bisogna andare un po' a fiducia e l'altra domanda è come lavorano con gli istituzionali gli prestano i fondi banalmente tu immaginati un istituzionale che magari ha il grayscale di turno che ha il suo trust e vuole andare a erogare le azioni tra virgolette del suo trust oppure un market maker che fornisce liquidità gli exchange come lavoro ecco gli vanno a chiedere liquidità e ovviamente pagano un tasso di interesse poi al momento della restituzione è tutto lì un grosso prestito e questo è il business model che poi le tiene in piedi no food please to the moon è riduttivo addirittura dove arriviamo su marte ciao luca puoi analizzare il grafico di band grazie ci mancherebbe altro band è un po' che non lo guardiamo tra l'altro perché di fatto aveva avuto purtroppo guardate andiamo a vedere il settimanale che è molto più chiaro a riguardo noi lo stavamo seguendo in questo periodo vi ricordate questo periodo perché stava approcciando questi 36.500 satoshi che di fatto è un livello come potete vedere molto importante è una resistenza attualmente sul time frame settimanale che costringe band il prezzo di band in questa area che è un po' il suo bottom locale quindi il riuscire a recuperare in maniera confermata con chiusure qua sopra questa resistenza è un messaggio molto forte è un messaggio che dice bene bottom fatto e quindi si può ricominciare a costruire posizioni long cosa che purtroppo non è accaduta perché abbiamo fatto tanti falsi break di questo livello vedete qua ci ha aiutato anche il vedere che non c'è stata la presa della liquidità ad esempio e in sostanza tanti falsi break ma nessuna chiusura qua sopra quindi non c'è ancora non sussiste ancora lo scenario di possibile costruzione di long sussisterà scusate spengo questa luce sussisterà nel caso in cui chiudiamo qualche candela settimanale qui allora andremo a cercare sul giornaliero un bel setup di retest di quelli che piacciono a me per andare a costruire il nostro long ma per ora non è cosa allora torno subito da voi tac buonasera Luca complimenti per la maglietta grazie guarderesti RIF BTC assolutamente sì tra l'altro non so se avete letto quegli abominevoli articoli del giornale mi viene in mente parlando di RIF perché insomma non so se avete visto hanno fatto dei titoli veramente incredibili da far impallidire il peggio clickbait che in sostanza dicevano parlavano di EOS come nuova criptovaluta una delle valute più utilizzate delle castronerie incredibili e di RIF dicevano che gli analisti dicono che farà 50 per qualcuno dice addirittura che farà 100 per ma sì buttiamo buttiamo qualche previsione a caso poi quando non sanno cosa dire dicono gli analisti hanno detto questi mistici analisti chissà chi sono in ogni caso abbiamo una punta qua non benissimo è la punta non ci piace lo sappiamo andiamo a vedere il settimanale se ci aiuta anche lui vedete traduce la punta con questo costrutto di top estremamente concentrato perché di fatto poi lo storico di RIF è basso si può trarre conclusioni fino a un certo punto abbiamo questo questo top molto forte con un assorbimento totale dell'ultima candela settimanale che non è affatto bello e poi infatti ha costretto un po' il mercato in lateralità adesso è abbastanza indeciso c'è un po' da capire innanzitutto da che parte si risolverà questa lateralità se sopra o se sotto dove lo mettiamo lo mettiamo qui direi e in base a questo abbiamo un primo indicatore ok se la lateralità si dovesse risolvere a rialzo potrebbe esserci già volendo il setup long con magari un eventuale take profit in zona del top e attenzione nel caso in cui faccio un lower un lower high perché vi mostro il caso se andiamo a fare a rompere a rialzo magari ritestiamo anche però poi sale sale poi bam ok va a fare un lower high rispetto al top vuol dire che comunque c'è da guardare più dall'alto più da lontano e si potrebbe potrebbe essere in formazione un triangolo ribassista di questo tipo bisogna fare molta attenzione perché quando ci sono queste punte paralizzano un po' il mercato ne abbiamo parlato anche l'ultima volta nel caso invece andiamo a perdere anche questa lateralità a ribasso assolutamente non c'è non c'è nessuno scenario di long c'è da aspettare che ritracci e che trovi un po' il suo bottom locale che lo costruisca però per il momento la situazione è un po' questa vedete c'è un po' il rischio di una sorta di testa e spalle anche se vogliamo molto risicata è come cosa però è possibile bisogna fare attenzione alla risoluzione di questa fase laterale ecco questo ci dà il primo segnale torno da voi grande luca sentito parlare del progetto casper lab no in prevendita a fine mese su coin list no assolutamente no purtroppo buonasera seconda live avrei una domanda ben ritrovato conosci iotex potresti fare un'analisi del grafico oggi ha avuto una bella crescita il progetto è solido con prodotti in real life mi piacerebbe ricevere una tua opinione guarda grazie per la segnalazione io non lo conosco purtroppo iotex bitcoin vediamo il grafico però su questo ti posso dire la mia opinione partiamo dal settimanale visto che è una novità anche per me allora cosa abbiamo abbiamo un downtrend molto pesante quindi non benissimo come inizio perché arriviamo guarda da uno svuotamento totale ok un grossissimo bear market duraturo e al momento è un po' spiaccicato sulla in zona bottom ok abbiamo la zona 38 è anche una low sat tra l'altro 27 e 20 questi tre lower low che in realtà formano una sorta possiamo chiamarlo un range perché di fatto tutto questo per me è un gigante un gigantesco range io ti dico la mia personalissima opinione io non andrei a prendere posizione su un grafico del genere e non lo farei forse nemmeno se dovesse andare a recuperare il range high perché di fatto c'è un downtrend troppo forte alle sue spalle non non sono quei grafici che mi attirano cioè c'è troppo downtrend per andare a cercare il long con tutte le coin che ci sono io preferirei andarne a cercare qualcun'altra poi ripeto io non conosco i fondamentali quindi magari quelli possono spingere invogliare a investire però ecco quello è un altro discorso ciao luca sei la mia guida responsabile verso questi mercati emergenti e te ne sono grato io ti ringrazio è un piacere spero proprio di trasmettere questo senso di dover essere responsabili nell'investire qui dentro e di non fare i cercatori d'oro desidero chiederti se conosci questo exchange italiano young platform pro cosa ne pensi guarda lo conosco di nome so che lavora molto bene che sono assolutamente affidabili in gamba però non l'ho mai utilizzato quindi non ti so dire i dettagli purtroppo se mi chiedi se ci si può affidare io ti direi di sì però luca potresti guardare alfa usdt assolutamente allora lo guardiamo prima in usdt poi in btc perché era uno di quei grafici che volevo andare ad esaminare oggi vista la notizia allora alfa usdt il settimanale è un po' poco storico di fatto però mostra già con questa settimana un bel engulfing bullish di quelli che ci piacciono andiamo a vedere il daily che cosa ci dice allora il daily di fatto ha trovato bottom per il momento in questo cluster qua bellissimo guarda da manuale doppio test addirittura doppia pesca della liquidità una sorta di w che si vedrà molto meglio secondo me su low time frame tipo 4 ore eccola 1 e 1 2 e adesso break e via che si parte allora sul low time frame visto che comunque anche vedendo il giornaliero e il settimanale gli spunti ci sono il low time frame ci dà già qualche possibile spunto per la posizione long perché di fatto questo 1 e 77 circa è un bel livello è un bel livello perché lo abbiamo testato n volte e poi apparentemente oggi l'abbiamo recuperato quindi se andiamo a navigare da queste parti potrebbe già essere una conferma del reclaim eseguito ok e non di un falso movimento quindi direi che è bullish come movimento su tutti i time frame quindi assolutamente ci sta andare a cercare l'eventuale long me lo salvo andando a vedere alpha btc la cosa è pressoché simile pressoché identica guarda c'è la w anche sul qua siamo sempre sulle 4 ore abbiamo una bella w qua più o meno w è un po' un po' con qualche test in più però avete capito il senso e vedete si sta ripetendo un po' lo stesso pattern lo stesso andamento che abbiamo visto su usdt anche su btc andando a vedere il giornaliero allora qui abbiamo un andamento un po' più sporco e vedete in questo caso è più bellino il grafico su usdt sì perché in questo caso il cluster che avevamo qua ha fatto più da trattore che da livello di supporto quindi potrebbe essere che su alpha è più affidabile il grafico in usdt addirittura sta di fatto che abbiamo una zona di supporto rilevante anche qui che si trova all'incirca in quest'area ok cluster a cui possiamo aggiungere volendo anche questi spike di liquidità quindi se il daily ci chiude un po' come si deve qua sopra possiamo andare a cercare l'entry in questa zona con stop loss sotto i minimi locali questo è un altro setup entry che volendo ci sta tutto torno da voi ciao Luca come lo vedi il grafico di ftm phantom anche lui è molto in voga in questo periodo phantom bitcoin grazie al mitico andre che lo scilla alla grandissima phantom bitcoin ecco sta diventando più appetibile nel senso me l'avevate già chiesto un po' di tempo fa e secondo me ci trovavamo durante questa salita e vi dicevo è un po' intoccabile come grafico iper esteso alla grande ai massimi e adesso la cosa è diversa perché c'è da vedere questo ritracciamento come si configura se si configura come una bella triangolazione simmetrica volendo potrebbe essere già un possibile setup long mi spiego meglio se vediamo una discesa lenta verso la base inferiore del triangolo si potrebbe andare a grattare qualche long speculativo nell'area punto inferiore del triangolo mettendo lo stop sotto il il punto lo swing low precedente ok perché se viene violato questo swing low facendone uno più basso non è più un triangolo e cambia completamente lo scenario quindi ho sbagliato in altre parole ma se permane la la possibilità di avere un pattern triangolare ecco potrebbe essere una bella accumulazione prima di un eventuale altra leg up setup fortemente anticipatore si può aspettare di cercare l'air high che ci dà qualche possibilità in più di accumulazione di triangolo e di continuazione rialzista anche lì dipende un po' dall'approccio però non male come grafico ciao luca ho letto di it quindi le fees diminuiranno quando e c'è da vedere guarda diminuiranno quando implementeranno i layer 2 saranno più utilizzati e quando e se implementeranno le ip1559 c'è da seguire la call degli sviluppatori dopo domani ciao luca volendo fare investimenti alternativi a bitcoin quindi spostandomi su oro e argento come diresti di procedere al meglio in questa direzione comprare token agganciati al prezzo dell'oro e argento oppure cosa grazie mille guarda io non mi sento di dirti cosa fare anche perché non posso io ti posso dire che personalmente come esposizione sull'oro mi trovo benissimo con PAX Gold molto smart basse fee molto comodo e mi trovo molto bene sull'argento già diventa un po' più difficile perché che io sappia l'argento c'è la versione sintetica di Synthetix e poi su Bitpanda ci sono i metalli però ci sono delle commissioni anche lì che li rendono un po' meno appetibili forse la cosa più conveniente potrebbe rimanere il mercato tradizionale in questo caso dipende poi tutto dai volumi però per l'argento ahimè io non conosco di versioni tokenizzate non so se ne conoscete una voi magari ditemelo che potrebbe essere interessante da sapere ecco allora ciao Luca cosa ne pensi del token Ski un'azienda italiana che si occupa di certificazione digitale di titoli accademici e altro dietro ci sono personaggi come Alfio Bardolla e Giacomo Bruno un saluto sei un grande mi viene da sorridere perché me lo ricordo quando avevano cavalcato l'onda delle ICO volendo fare il token anche loro ti dico la verità io non non lo toccherai neanche con un palo lungo 10 metri ecco giusto per non esporvi posso chiederti come funziona Metamask non lo capisco proprio io ho un Ledger Nano X e ho letto che si può collegare assolutamente sì adesso detto così in maniera rapida rischio di di perdermi dei dettagli però se tu da Metamask clicchi e aspetta vediamo se magari ve lo ve lo fa vedere da qui perché dovrei fare il login no comunque se voi cliccate su Metamask nelle impostazioni c'è proprio collegare e tu da lì attacchi il tuo Ledger apri l'applicazione di Ethereum e te lo dovrebbe vedere adesso non è questa la sede in cui discuterne magari ti possiamo dare una mano se hai bisogno nel nostro canale Discord ecco dove ci si aiuta un po' più step by step allora amici io adesso vado a dare un'occhiata ai grafici perché direi che ce n'è bisogno qui qualcuno mi chiede di One Inch com'è finita e ve lo dico tra poco perché di fatto non mi vuole prendere lo stop loss sembra ma è lì che lo sta grattando però adesso andiamo a vedere i grafici altrimenti non ne parliamo più e scatta l'ora X scatta il limite partiamo da BTC allora come qualcuno di voi giustamente ha osservato poco fa no facciamo così ha approcciato un livello importantissimo che è 52k attenzione all'approccio con questo livello ho lasciato anche gli appunti oggi perché attenzione all'approccio perché di fatto è la prossima resistenza importante cosa combina in questi giorni Bitcoin allora ha avuto il macro è estremamente bullish ha avuto un uptrend pazzesco violentissimo dopodiché c'è stato il primo scarico e abbiamo avuto una punta anche su Bitcoin ok una punta di solito frena un attimino il mercato come abbiamo detto poco fa e negli scorsi live nel nostro caso di Bitcoin l'ha fatto ritracciare in maniera abbastanza organica lasciatemi dire perché ha fatto una perdita del primo supporto che si era creato durante la salita questo cluster intorno ai 52k e un retest ribassist un bearish retest su cui avevo aperto la copertura short che oggi ho chiuso tra parentesi siamo sempre lì che ballano le coperture apri chiudi apri chiudi non si combina nulla poi dopo il retest c'è stato un lower low di nuovo ed è arrivato proprio a pennellare incredibile il pool di domanda 44-45000 che era il nostro ultimo baluardo prima dei 40k vi ricordate questi livelli li avevamo già tirati fuori li avevamo già addocchiati prima del ritracciamento perché di fatto avevamo supporto 1 supporto 2 supporto 3 e poi questo si poteva identificare tutto come un range volendo ok e avevamo anche questo livello di mezzo che è un po' il range middle cosa ha fatto bitcoin? a ognuno di questi supporti ha dato rilevanza quindi il primo breakdown retest il secondo vedete qua aveva ostacolato inizialmente ma poi è ceduto poi è arrivato al terzo e qua la domanda si è fatta viva e vegeta al punto tale da fare da stampare un engulfing bullish potentissima queste due candele sono una bella combo perché abbiamo candela 1 uno sweep dei low guardate ha preso la liquidità pam e ha formato un falso breakdown uno swing failure chiamatelo come volete insomma la shadow che rompe il livello di supporto e prende la liquidità e il body che chiude di nuovo all'interno del supporto segnale importante follow up con engulfing bullish boom via esplosiva questa reazione è stata esplosiva engulfing bullish che è arrivata dritta dritta ai 49 50k il nostro primo cioè il nostro scusate secondo cluster che si è andato a formare durante il ritracciamento e quindi diventa un livello chiave da seguire c'è stato un po' di stasi perché guardate ieri c'è stato un piccolo una piccola reazione da parte dell'offerta che ha detto aspetta un attimo dai non è che ti faccio passare subito così te la faccio facile però poi oggi c'è stato il follow up di domanda che ha vinto definitivamente quest'altro cluster quindi questo cluster è stato recuperato flip a supporto teoricamente a tendere chiusura giornaliera motivo per cui questo rettangolo è ancora rosso diventerà verde e flipperà definitivamente a supporto lo dice la teoria ecco nel caso in cui chiudiamo la candela giornaliera sopra di esso penso che a questo punto sia abbastanza probabile però mai dire mai che adesso arriva un sell off violentissimo e ci fa chiudere in rosso quello sarebbe uno scenario atroce e mi pentirei di aver chiuso la copertura short quindi speriamo che non accada scherzi a parte al momento abbiamo sopra di noi la grossa resistenza dei 52k il cui approccio è importantissimo per quale motivo perché se conquistiamo anche quella è un altro segno che la domanda sta avendola meglio capite è importante più che mai in queste situazioni dove ci troviamo di fatto in quello che potenzialmente potrebbe diventare uno scenario di lateralità con diverse sfaccettature triangolare un regio orizzontale può diventare qualsiasi cosa e dobbiamo un po' capire in questa fase laterale cercare di cogliere i segni di chi tra domanda e offerta ha il coltello dalla parte del manico e come si fa a capirlo prima del break dal range stesso beh una cosa la dice il macro quindi il fatto che ci troviamo su un macro rialzista già fa capire che comunque il bias generale è quello rialzista poi all'interno del range bisogna vedere la direzionalità quindi ad esempio questo costrutto che vi ho descritto prima fa vedere che qui la situazione ce la impugno la domanda follow up anche oggi situazione impugno la domanda e se andiamo a recuperare pure questo cluster ancora di più e capite bene che invoglia già cercare il long anche qualora poi dovessimo fare un altro storno cioè ci invoglia andare a costruire un long una reazione di questo tipo al contrario se ipotizziamo questa cosa oggi chiudiamo così per esempio domani stampiamo un engulfing bearish che arriva qua capite bene che qua il gioco cambia perché abbiamo fatto un lower high come giustamente accennava prima il nostro amico nei commenti nella chat confermato da un engulfing bearish quindi offerta che si fa vedere più in basso ad un lower high questo invece è un segnale che è meglio aspettare ancora un attimino a costruire delle posizioni long perché perché non sappiamo adesso come si svilupperà questo andamento se si dovesse sviluppare a triangolo simmetrico con parità tra domande e offerta diventa interessante volendo anche per costruire un long se si dovesse andare a costruire esempio un range da queste parti con engulfing bullish e offerta che scarica più lentamente molto interessante costruire un long se si dovesse andare a formare una sorta di triangolo ribassista in questa maniera molto meno interessante costruire un long penso che sarete d'accordo con me quindi non è un momento secondo me in cui conviene affrettarsi è meglio prendersi del tempo è meglio ragionare riflettere vedere quali saranno le prossime reazioni di bitcoin e in base a quelle andare a pensare a come esporsi sul mercato è sbagliato ragionare dicendo abbiamo ritracciato appena c'è una candela verde fiondarsi dentro se no perdo il treno rischiosissimo dannosissimo perché come abbiamo visto niente è ancora scritto bisogna tenere le antenne dritte la guardia alta seguire assolutamente il grafico e vedere che cosa ci combinerà nei prossimi giorni e in base a quello costruire una posizione senza fretta perché in questo momento può succedere che adesso domani ti pianta una candela che arriva a 70.000 però secondo me probabilisticamente è ripeto più probabile scusate la ripetizione ma avere uno sviluppo laterale ancora per un po' poi staremo a vedere certo è ripeto se la domanda comincia a scalciare forte e a riconquistare anche questo livello di resistenza si inizia a ragionare anche da subito sulla costruzione del long ma è una cosa che adesso non possiamo prevedere quindi la vedremo nei giorni seguenti tanto ormai noi siamo molto molto assidui poi vi faccio ridere con tra l'altro sono slogato da PrimeXBT che fa ancora più ridere non so se avete seguito se seguite il mio trading intraday che sto condividendo un po' su Telegram ho fatto un trading journal dove vado ad aprire e chiudere posizioni sull'intraday per l'appunto e questo è il mio terzo trade sì perché i primi due sono andati bene per adesso questo era il terzo l'ho missato clamorosamente perché avevo aperto la posizione avevo messo l'entry qua sotto qualcuno mi chiedeva come mai allora io uso una logica semplice la ripeto per l'ultima volta qui perché se no poi se ogni volta lo ripeto giustamente vi annoio la logica è semplice prendo l'high time frame che sono le 4 ore e il low time frame che sono i 30 minuti sull'high time frame guardo la struttura sull'high time frame guardo la price action quindi in questo caso high time frame struttura come è tendenzialmente bullish perché abbiamo avuto un bottom molto forte una ripresa molto rapida quindi sull'high time frame vado a cercare il long ok ci trovavamo più o meno qui ho detto bene dove lo possiamo andare a cercare il long io ho trovato volevo fare un buy the dip in sostanza sui 30 minuti il che vuol dire andare a prendere la prima dip possibile andarla a prevedere era un trade anticipatore perché ci trovavamo ripeto ancora qui trovate il post su telegram che lo descrive quindi come si fa ad anticipare un dip allora io ho visto questa candela qua lunga ok che è una candela comunque associata a volumi importanti quindi con tanti acquisti dopodiché si è un po' rallentata la situazione guardate la candela dopo è un po' titubante quindi cosa ho detto bene qui è un po' dove si è esaurito la prima ondata di acquisti e c'è stato un attimino di riassestamento ergo qua c'è un po' di liquidità ok e quindi ho detto entri qua proprio sotto perché io mi aspetto che si vada un po' a cercare quella liquidità lì di triggerarla in qualche modo e ho messo l'entry qui 50.000 adesso non ricordo esattamente qua se andate a vedere il trading journal trovate proprio l'entry esatto tick profit l'avevo messo qua perché c'era il primo la prima candelina di cluster stop loss a caso in verità cioè sotto a questo high ma senza una particolare logica molto stretto infatti è posizione R mezzi non R perché è una posizione molto anticipatrice molto rischiosa indovinate cosa è successo allora qui si vede che l'ha missata ma se voi andate a vedere su PrimeXBT che è dove ho aperto il trade e andate a vedere il mio entry era 50.457 credo c'è scritto sul journal è arrivato tipo 3 dollari appena sopra e poi è andata a take profit e vabbè che dire succede e adesso magari lo va a ritestare non lo so vediamo però di fatto ho missato clamorosamente il mio entry allora adesso andiamo a vedere che succede che fai Bitcoin non è che mi fai va a finire sicuramente così io ho chiuso la copertura short e adesso vedrete che fa un falso breakout riassorbe e richiude qua sotto che mi tocca andare a riaprire lo short perché in questo caso cioè se facciamo la chiusura bearish qua sotto è ancora da copertura short di fatto è ancora da da non entrare vediamo vediamo lo so che andrà a finire così la fortuna è sempre dalla mia parte Ethereum adesso a parte gli scherzi andiamo a vedere Ethereum visti i presupposti che ci sono che vi ho detto all'inizio i fondamentali io la sto cercando lo dico dico la verità avidamente il long su Ethereum sto tenendo molto bene d'occhio il grafico perché di fatto adesso se ne parla poco dei layer 2 sia più concentrati sulle altre blockchain vedete bene soprattutto le masse dicono si Ethereum alte fee è irrecuperabile Binance Smart Chain Cardano e altre robe così e quindi Ethereum è lì sottovalutata quindi io sono avido di un long se il grafico mi dà l'opportunità io lo apro l'opportunità per me è la chiusura sopra gli 0.0335 ok quindi voglio un reclaim di questo livello se me lo fa io vado a riaprire il mio long su Ethereum 1inch che me lo state chiedendo allora io ho lo stop loss adesso vi faccio ridere perché vi avevo detto il riferimento per lo stop loss più stretto era 8254 circa io l'ho messo un po' sotto era 8000 forse appena sotto gli 8000 per non fare la cifra tonda in caso di chiusura perché di fatto altrimenti se non fosse stato per la chiusura avrei dovuto tenere i picchi di liquidità metterlo ancora più sotto solo che poi abbiamo già un altro supporto e quindi aveva poco senso il discorso che avevamo fatto tempo fa quindi ho detto se inizi a chiudere qua sotto facciamo che lo chiudo chiudo la posizione in stop ed io sono entrato qua dentro al momento è in perdita è underwater però non è ancora stoppata io la tengo lì fin tanto che appunto ripeto non mi chiude una candela sotto gli 8000 sat vediamo che succede poi che altro che altro che altro non lo so quasi quasi ripasso la parola a voi a questo punto abbiamo commentato un po' tutto non so se avete altre domande da fare allora vediamo un po' sono 6 ore che fa candele verdi qui state parlando un po' tra di voi buonasera ti seguo fisso daresti un'occhiata a bnb euro euro addirittura mi fai del male facciamo bnb dollaro dai passamelo passami bnb dollaro perché il mercato in euro è poco liquido ecco bnb non benissimo a dire la verità perché c'è questo allora vedete ha fatto una punta anche lui qua un top locale e al momento ha trovato sta facendo dei livelli abbastanza ben definiti ha trovato 253 230 210 come supporti 210 addirittura ha fatto un engulfing bullish che ha recuperato i 230 e ha di nuovo cozzato con i 253 poi c'è stato un po' di storno e così via quindi se andiamo a determinare che questo è un blocco perso quindi andiamo di nuovo a recuperare 253 260 allora volendo si potrebbe anche cercare il long verso i 295 e i 330 come primi take profit altrimenti però non è da escludere la possibilità di ritracciare ulteriormente perché di fatto ricordiamoci che ha esteso parecchio BNB quindi c'è una certa componente di rischio da non trascurare assolutamente poi andiamo avanti altre domande cosa ne pensi della Coinbase IPO eh guarda bella domanda questa nel senso non so cosa ci possa essere dietro perché ci sono molti istituzionali che hanno già le stocks di Coinbase che non vorrei che non stiano aspettando altro che dampare sui retail al momento dell'IPO a me generalmente non piacciono le IPO così come le ICO perché in sostanza io voglio che sia il mercato apprezzare un bene un'azione un token una cripto qualsiasi cosa non qualcun altro cioè se ti fanno l'IPO qualcuno fa il prezzo e se qualcuno fa il prezzo non lo so perché cioè perché devi deciderlo tu lascialo decidere al mercato quindi io preferisco aspettare che il mercato l'apprezzi ed eventualmente entrare più tardi piuttosto mi perdo un eventuale pump magari c'è il pump però non deve essere una scommessa dire entro nell'IPO così se pampa bene non ha senso ecco e quindi io preferisco ripeto aspettare che sia il mercato apprezzarla bene io con questo visto che abbiamo raggiunto il nostro timestamp di un'ora vi faccio un saluto vi ringrazio di nuovo di avermi seguito per tutta la live anche oggi vi ringrazio di aver partecipato con le vostre domande mi raccomando non perdete di vista bitcoin perché è lì che sta facendo un po' di capricci bisogna tenerlo buono perché dipende tutto da che cosa combini in questi giorni potrebbe addirittura ricominciare a ritracciare e fare dei nuovi minimi se fai il cattivo oggi domani e nei prossimi giorni quindi non diamo mai niente per scontato e per certo finché non ne abbiamo tutte le prove di nuovo grazie per avermi seguito noi ci vediamo venerdì di nuovo live sempre assolutamente sul pezzo domani se riesco vi faccio un bel video sulla Binance Smart Chain un bel tutorial da là alla z ve lo voglio fare bene a prova di nabbo proprio vorrei fare una cosa di questo tipo spero che vi interesserà perché vedo che di fatto molti stanno facendo un po' non lo so mi sembra che ci stiamo buttando i soldi a caso sulle DeFi iBSC e quindi forse vale la pena fare un attimino di inquadramento sui rischi e sulla situazione bene ragazzi di nuovo un caro saluto e alla prossima